Amici di Senauto, ben ritrovati! Oggi siamo in diretta dal salone di Rotolo Automobili in via Antonio Cecchi, 62 a Torino, naturalmente in compagnia di Tony Rotolo. Ciao Tony! Ciao Vittoria, ciao a tutti! Vi ricordiamo subito che qui da Rotolo Automobili potete fare la revisione delle auto e delle moto. Vi aspettiamo! Dovete revisionare la vostra auto e la vostra moto, ci siamo e troviamo anche il servizio di presa e consegna a domicilio. Che cosa volete di più della vita? Scoprire le offerte a voi dedicate, quindi procediamo! Chi meglio di Nicole ci può spiegare tutte le occasioni imperdibili. Ciao Nicole! Ciao Vittoria, partiamo con questa bellissima Lancia Ypsilon 1269 CV a soli 12.450 euro. Proseguiamo con... Con questa fantastica Panda 1000 Hybrid allestimento Easy, immatricolata a 2022, potreste le vostre a soli 10.900 euro. Ci siamo trasferiti al piano inferiore per partire da una 4x4 Nicole! Sì Vittoria, con questa spaziosa Dacia Duster 1.5 115 CV potreste le vostre a soli 20.900 euro. Con una vettura a fare al nuovo! Sì Vittoria, con questa fantastica Fiat Tipo del 2017, 1.495 CV con un treno di gomme nuove, potreste le vostre a soli 11.750 euro. Allora Nicola, arriva la bella stagione, ci saranno delle belle giornate. Solarietta che fai? Non hai una proposta per i nostri amici cabrio e ibrida? Sì Vittoria, questa fantastica Fiat 500 allestimento Dolce Vita, 1.070 CV, perfetta per neopatentati e non a soli 19.000 euro. Ma le 500 non finiscono qui! Sì Vittoria, abbiamo diverse colorazioni e altri allestimenti, tra cui la 500 Cult a partire da soli 14.390 euro. Concludiamo con un usato! Sì Vittoria, pronta consegna Fiat Panda 1.2 69 CV a soli 11.800 euro. Siamo giunti ai saluti finali! Prima però di farlo vi dobbiamo parlare di due grandi novità. Ve l'avevamo già spoilerato, non eravamo però entrati nel merito. Possiamo? Sì Vittoria! Allora, fanciulli, fanciulle, ci saranno due nuove aperture di due nuovi showroom di Rotolo Automobili, dove? Sì Vittoria, via Carina Lama 6 è numero 5 e via Stradello 82. Vi aspettiamo, offrirai un caffè anche lì chiaramente. Vi aspetto tutti, anche solo per un caffè. Grazie mille Tony! Grazie Vittoria! Vi aspettiamo anche qui, Rotolo Automobili via Antonio Cecchi 62 a Torino.